Mister Carlucci, terza partita di campionato e terzo successo, nove punti nelle prime tre gare. Se l'aspettava all'inizio della stagione un avvio così fulminante? No, no, sicuramente non me l'aspettavo, però uno ci crede sempre. Poi sai che uno tira l'altro, però oggi devo dire che il risultato comunque è ampiamente largo, ma dobbiamo analizzare la partita perché i primi 20-25 minuti un ottimo Villa ci ha messo in difficoltà. Lo sapevo, avevo avvisato i ragazzi che era una partita difficilissima, infatti il campo l'ha testimoniato. Mister Vitale, per lei, contrariamente al mister Carlucci, non è stata una bella giornata a livello di risultato, eppure non possiamo dire che i suoi non ci hanno provato, è mancata un po' di concretezza sottoporta. Sì, i miei ci hanno provato fino all'ultimo, purtroppo è mancata qualche gol. Le occasioni abbiamo avute, le abbiamo costruite, però sapevamo che venivamo a casa del Cupello, che è una squadra esperta, gioca insieme da tanti anni, però io sono comunque contento della prestazione, dispiace per il risultato.